Un saluto come state ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi, allora Milan che va ai quarti e accede dunque al sorteggio domani alle ore 13 per i quarti, vedremo adesso come si configurerà il tabellone o meglio l'urna con Marsiglia, Benfica e Western che sono passate e ora vedremo appunto le altre. Milan che vince 3-1, partita in cui nei primi 20 minuti Milan non fa un granché e poi c'è l'espulsione, anche questa volta c'è l'espulsione un rosso forse un po' eccessivo a un giocatore che ha fatto un fallo su Calabria. Da segnalare che Mignan subisce un trauma contusivo al ginocchio, fa una paratona da mezzo infortunato poi con setto ad uscire in trasportiello, poi ovviamente la partita si è messa bene, gol di Pulisic con l'assist di Rafa Leao, poi c'è stato il gol di Loftus-Cic con l'assist di Theo Hernandez, poi c'è stato un gran gol di Leao con la palla messa nel sette, nel secondo tempo un po' di cambi, purtroppo però no clean sheet perché verso l'ottantaquattresimo il loro gol superato, si è fatto un po' aggirare Ciao e è stato trovato un gol di sinistro con un sportiero che non è riuscito a evitare il gol. Partita che il Milan ha gestito bene, insomma di fatto condizionata dalla superiorità numerica, poi si è andato quasi subito sul vantaggio e sul raddoppio. Vedremo che cosa ha Mignan, ecco Girumale, poi chi è entrato non si è fatto vedere un gran che, Ciuquezze ha fatto mezz'ora di gioco impalpabile, è uno da quali ci si aspettava evidentemente un po' di più. Domani dunque il sorteggio, lo seguiremo insieme e vedremo chi affronterà il Milan ai quarti. Preferenze? Commentate qui sotto numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, grazie. Numerosissimi mi raccomando vi aspetto, guardate anche il video precedente perché ci sono novità anche sul resto, indagini non solo, un abbraccio.